Ho conosciuto Davide Rimescu perché per un certo periodo è stato mio studente in conservatorio e fin da quando era giovanissimo mi ha colpito il suo grande talento e soprattutto la maturità e la libertà nel fare musica, cosa alquanto rara nei giovani della sua età. Il suo percorso musicale qualche anno fa ha purtroppo subito un improvviso arresto a causa di alcuni problemi personali, ma adesso per Davide è finalmente arrivato il momento di ripartire. L'Unione Musicale ha scelto di dedicare la sua prima raccolta fondi a un ragazzo che nella vita ha avuto qualche difficoltà di troppo rispetto ai suoi coetanei. Abbiamo deciso di supportare Davide sia per valorizzare il suo eccezionale talento sia per sostenerlo concretamente perché il mestiere del musicista, oltre al sacrificio e alla dedizione allo studio, comporta anche investimenti personali. L'Unione Musicale è da sempre attenta a offrire opportunità ai giovani musicisti, in primis invitandoli ad esibirsi nelle proprie stagioni. Ma in questo caso abbiamo pensato di fare qualcosa di più. Ci piacerebbe che Davide potesse riprendere il suo percorso senza doversi preoccupare troppo della quotidianità, così da concentrare tutte le sue energie sulla musica e sul pianoforte. Con questo progetto di crowdfunding, oltre ad aiutare Davide, avremo l'opportunità di conoscerlo nella sua routine giornaliera e di scoprire insieme a lui il dietro le quinte della vita di un giovane musicista. Noi crediamo che chi ama la musica ami anche i musicisti. Confidiamo quindi che il nostro pubblico partecipi a questa iniziativa e dia il suo contributo. Contiamo sulla sensibilità e sulla generosità di chi ci segue da anni per raggiungere insieme l'obiettivo di garantire a Davide un adeguato supporto nell'avviare la sua carriera concertistica.